Vedere la vita da altri punti di vista è arte. Superare i limiti e oltrepassare l'obiettivo prefissato è progresso. È futuro. Proprio come la nuova Connect Pellet Edge. Connect Pellet Edge ha una potenza termica nominale di 8 kilowatt. È disponibile con una capacità del serbatoio del pellet di 26 o 40 chilogrammi. È quindi disponibile anche in due diverse dimensioni. Offre due opzioni di raccordo. Connect Pellet Edge con vetro angolare offre una vista eccezionale sulle fiamme danzanti. Il sistema modulare Connect consente la libertà creativa personale. Connect Pellet può essere abbinata a numerosi elementi. personalizzabili. I diversi componenti possono essere progettati in modo creativo e variabile in termini di materiale e colore. Sono disponibili quattro porte decorative. I rivestimenti in pelle, alcantara o tessuto invitano a intrattenersi e rilassarsi. A descrizione, le ante decorative possono essere completate autonomamente per adattarsi al vostro stile. Connect Pellet si inserisce armoniosamente in ogni spazio abitativo. È di facile manutenzione, dispone di una griglia ribaltabile e un display touch intuitivo. Connect Pellet può essere controllata opzionalmente online, utilizzando Rika Firenet e tramite comando vocale con Rika Voice. Connect Pellet Edge La vita è evoluzione Rika 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 Grazie a tutti.